Sono stati avviati i lavori di adeguamento antisismico presso la scuola Alfieri di Taranto. Si tratta di un progetto pilota che l'amministrazione comunale di Taranto intende estendere anche alle altre unità immobiliari di pertinenza del comune Ionico. All'inaugurazione del cantiere c'era anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Siamo molto impegnati sulla scuola quest'estate per il Covid e in forniture per la didattica di nuova generazione. Abbiamo investito già quasi 2 milioni di euro che si aggiungono a quelli che singolarmente i dirigenti scolastici hanno impegnato dal Ministero. Questo è un intervento di altri 2 milioni che riguarda soltanto questo plesso e ha dei risvolti sulla prospettiva antisismica dell'immobile. Un immobile che non aveva mai ricevuto dalla sua creazione un intervento così importante. Chiaramente interverremo anche sull'efficientamento energetico, sugli infissi, su tutta una serie di migliorie che servono a questo istituto che ospita tanti ragazzini, il corpo docente, tante persone che lavorano ogni giorno qui. Insomma vogliamo andare avanti con quel grande piano che riguarda la scuola, che mancava da troppo tempo. Abbiamo già fatto una stima intorno ai 30 milioni e vogliamo andare avanti, ripeto, anche con altre realtà. Oggi siamo qui ad inaugurare questo cantiere, poco più di mille giorni, però consegneremo a questo quartiere un luogo molto importante e attrattivo che sicuramente avrà dei riflessi positivi sulla qualità dello studio e della vita di tutti i giorni di queste persone.